Siamo qui a Formello, faccio l'inviato per la Primavera, erano anni che non venevo più a vedere la Lazio Primavera, mi sono divertito tantissimo, hanno lottato su ogni pallone, anche il Napoli ha già una grande partita, 2-2, poi ai tempi supplementari, grande Guido, no Guido, Guido Guerrieri, che ha parato tutto, quasi tutti i rigori, e perciò posso dire una cosa, la Lazio dei grandi dovrebbe metterci la rabbia che ci mettono questi ragazzi, comunque tornare a Formello è sempre bello a vedere la Lazio Primavera. Venite anche voi, provateci, è Inzia che sta facendo un grande lavoro.